Non so se davvero non si è fatta la digitalizzazione e non si è andata avanti speditamente come si sarebbe potuto per questo, secondo me ci sono anche altre ragioni, ma certamente il tema del miglior utilizzo dei dipendenti pubblici c'è e come governo non l'abbiamo mai negato e così come io mi sono assunta la responsabilità di dire non ci saranno esuberi, penso anche però che una serie di norme importanti e contrastate che abbiamo messo nel decreto legge siano proprio la risposta a quello che dici tu. Entro poi nel dettaglio sulle norme in particolare di mobilità sia obbligatoria che volontaria e di demanzionamento che rispondono proprio all'esigenza di far sì che le persone siano per il tempo giusto al posto giusto, il posto giusto è laddove servono per far arrivare servizi ai cittadini e alle imprese.